Ragazzi, buongiorno! Allora, pochi giorni fa c'è stata la competizione di powerlifting più importante al mondo Sheffield 2024, atleti incredibili, i più forti nel panorama internazionale per quanto riguarda il powerlifting Assolutamente, e tanti degli atleti più forti della storia Esattamente Allora, noi abbiamo la fortuna gigante di avere un'italiana, Carola Garra, che ha partecipato a Sheffield 2024 Perché effettivamente, ragazzi, Carola Garra è una delle atleti più forti che ci siano nel powerlifting mondiale E quindi oggi vediamo la gara di Carola Assolutamente sì, vedremo dei chili che sarebbero impressionanti in qualsiasi gara, ragazzi Menos 69 chili femminile Vediamo subito la gara, non ci siamo spoilerati nulla No, assolutamente, è stato difficile non guardare nulla sui social perché erano tutti incollati lì Però l'abbiamo fatto per questo video e siamo sicuri che ci saranno dei chili importanti Ragazzi, vediamo subito la competizione Parte Agatha Sitko, si dirà così? Quanto? Lo spero Quattro più bassina rispetto alla nostra connazionale 185 chili Che comunque, ragazzi, per una ragazza di 69 chili è chiaramente, stiamo parlando ragazzi di livello top mondiale Le tre più forti del mondo, quindi grazie al pero 185 chili Madonna, guarda che garba che ha Cioè, mi sento proprio secco a vedere queste ragazze Molto stabile, scarica bene per terra, controlla, aria Vabbè, ma puoi parlare di tecnica con questi atleti? Sì, no, vabbè, la tecnica non ha senso commentarla, ecco Ecco la nostra Karla, 205 chili Madonna, ragazzi, entrare in spot con 205 chili Pazzesco Una ragazza Pazzesco Porco Ma che gambe Mamma mia Mamma mia, veramente Vabbè, di Karla comunque è impressionante tutto Però dopo vedremo l'alzata per me più clamorosa La panca Assoluto 205 chili Vediamo l'entrata, da qui capiamo se Secondo me questa proprio sarà un'entrata estremamente conservativa, secondo me Anche se i chili dicono tutt'altro, secondo me rilancia sul soffitto Non ho visto nulla Vabbè Vabbè, ciao Rp dire 6 Facile Comunque, ragazzi, ma posso dire quanto è figa la competizione? Cioè, guardate che spettacolo l'organizzazione, i video, tutto quanto Bellissimo Mamma mia I led dietro, tutto Bello proprio Ecco, lei secondo me è la più forte insieme a Karla Francese Lei veramente è tanto forte 207 e mezzo, cavolo Come ingresso, eh Qua si gioca anche di strategia, chiama 2 chili e mezzo in più Insomma Lei è la ragazza che detiene il record di squat nella sua categoria Che mi sembra sia 215 Tipo una roba del genere Vediamo Mamma mia, quanto squat ha stretto Strettissimo Le ginocchia penso si siano toccate Sì, sì, si toccano Madonna Vabbè, tre chiamate tutte e tre facili Andiamo avanti Chiaramente gli ingressi sono così 192 e mezzo Saltino di 7 e mezzo Non tantissimo Eh, secondo me poteva alzare un po' È vero che comunque sono chili un pochettino più bassi rispetto a quelli di cui parliamo noi Eh, infatti Forse ha fatto bene adottare Ha chiamato giusto Sicuramente ne sanno più di noi Esatto Sicuramente si conoscono meglio Ecco, Karla invece fa un salto di 10 chili Cosa un pochettino più comune Solitamente Anche perché è il massimale più alto Quindi se lo può permettere Ma secondo me 225 li può fare tranquilli Quindi è anche 10 chili in più a quello di adesso Vediamo, vediamo Perché poi lo squat è un'alzata particolare Essendo la prima Attenzione, chiamata record nello squat 215 chili Vabbè, ma lo fa sicurissimo Anche se poi anche l'altra La francese lo farà secondo me 205 Prima erano volati Ma identici a quelli di prima Lo posso dire? Sì, sì, sì Una leggera rallentata nei primi gradi Poi chiusi tranquilli 218 per la francese Eh, si gioca di strategia Troppo forti, porco d'inci Mamma E qui diventa bella la gara, eh Record su record Si tolgono il record Nella stessa gara Madonna Tanta roba Oh, ma più facili di quelli di prima Più facili di quelli di prima? Eh, può essere Ma li ha lanciati Infatti la vedo bella carica, giustamente Ma li ha lanciati, ragazzi Un salto di 10 chili e mezzo Agatha Sitko 5 chili in più Secondo te li fa? Secondo me li fa Eh, dipende Se picca una grindata clamorosa li fa Perché prima comunque non erano veloci Quindi deve dar tutto Deve dar tutto Può farli, eh Perché può farli Loro sanno arraccare il bilanciere Non come me Lei scende molto piano Eh, dai, dai, dai Buoni E te l'ho detto Doveva fare la grindata della vita L'ha fatta Brava Mamma mia Madonna ragazzi Immaginate che gioia Fare una gara del genere E tirar su un massimale in questo modo Con tutto il pubblico Si sa se prima o poi Faremo delle gare internazionali Che, guarda quanto è rimasta composta però Ah, carola 220 Non 225 220, sì Secondo me 225 Lo avrebbe fatti Vediamo se fa 220 Che magari faccio la figura Eh, ma sai che Se si gioca la gara con Con l'altra Con l'altra ragazza Scusate, non mi ricordo il nome Eh, non deve lasciar chi lì indietro Quindi non può rischiare Secondo me Certo, poi ragazzi Queste sono chiacchiere da bar Eh, ovviamente Posso consigliare qualcosa A degli atleti del genere Pulita Due chili e mezzo Un mezzo in più c'erano Pulita proprio Due chili e mezzo in più c'erano Grande carola Chiamata Chiamata buona Per non cuocersi Perché sa che può far bene La prossima La prossima Mamma, sono curiosissimo Di vederla in punk Mamma, io non ho visto niente Zero E anche un numero Non so neanche quanto è Ecco, lei 225 Eh beh, vedendo il 218 Secondo me Ci stava Ci stava come chiamata Secondo me Ci stava come chiamata Perché comunque Probabilmente Magari un pochettino più forte Più Più svantaggiata Cerca di recuperare qualche chilo Adesso in squat E bisogna giocare di queste cose Ragazzi Bisogna conoscere gli avversari Quindi sicuramente qua Vuole prendere più chili possibili Che ci sta Eh, con 225 Vabbè Prenderebbe 5 chili su carola Eh Più di 20 Sull'altra ragazza Che non mi ricordo il nome Sitko Bavoà Questa si chiama Bavoà Guarda la faccia concentrata Madonna Mi piacciono un sacco ragazzi Le espressioni Di questi atleti Che si buttano sotto il bilanciere Stracarichi Parliamo di mesi e mesi Di preparazione Solo per quel momento Posso dire un po' altini? Eh, forse Forse non ha affondato bene Vediamo Però a livello di facilità Cavolo No, 3 valide Mamma mia Posso dire Secondo me un po' altini? Eh Sembravano i pesi Difficile vederli così Sai cos'è? Che quando uno fa Un Uno stenso così stretta Eh Poi magari da davanti Mi frega Secondo me erano altini Valla a capire Vorrei vederlo da di lato Vediamo la panca Se basta la panca Voleva tutti i chili Perché comunque parte basso Eh sì In panca mi sa che Carlo è proprio su un altro livello Gioca un campionato a parte Però dalla conformazione Potrebbe essere un po' Una stanchista Entrata a 110 Ha comunque le braccia Più grosse delle mie Cavolo 110 ragazzi Sono comunque tanti Tanti chili Eh comunque fa abbastanza roba Poco arco Ammazza Stra facile Proprio Stra 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 Penultima di riscaldamento Mamma mia 140 in entrata Cioè ieri ho fatto 140 di panca Ero tipo la persona Più felice del mondo Incredibile Lei li fa in entrata Incredibile È incredibile Facci sognare carola Facci sognare Cavolo sono tanti È difficile esprimersi Da parole Rosico proprio Onore al merito Bam Non sei neanche presa La briga di controllare Le pili tanto in discesa Tanto questi ci gioco proprio Uh Agatha Sitko Entra a 145 Cavolo 146 Non ci vedo 146 Ebbè Lei deve fare un bel recupero In squat era partita bassa Quindi Deve fare un bel recupero Madonna 146 di entrata Però che Qua si vede che è molto muscolare Sì Ha le braccia proprio grosse Mi sembrano pure braccia Braccia abbastanza corte Posso dirlo Sì Vediamo Eh beh sì sicuro Meno ROM di tutte Eh se la gioco con carola Affonda Mamma mia però ragazzi Cioè Cioè penso che Non faceva fatica A lasciarli andare A rimetterli sul rack Mamma mia Li poteva far saltare Questi 117 e mezzo Un salto che Ci sta Nel senso Ci sta Essendo comunque Che i primi li ha lanciati Priscilla Bavua Dai meno male 117 e mezzo Riesco a farli anch'io Comunque Dovrebbe Non dico farli No Secondo me Saranno molto facili Sì Quello che mi aspettavo Beh comunque fa tanto ROM Quindi Mi ci stava Magari uno Vedendo l'entrata Avrebbe chiamato Anche qualcosa di più Però secondo me 117 e mezzo È una chiamata giusta Per una seconda Carola 146 e mezzo E allora è world record Sì Visto il mezzo chilo in più Questo è un tentativo Di world record Cioè lei si sta giocando Il record Con quella di prima Anche perché ho visto Che ogni record del mondo Era pagato 5000 euro in più Quindi Ci sta Ci sta a provarli Che dici Eh sì Brava Carola Mamma mia Mamma mia Ho chiamato al limite Forse In chiusura In chiusura Proprio Disteso forte il braccio L'ha chiusa veramente bene 152 Madonna Eh ma secondo me Li spara Vedendo 146 Li fa Madonna Guarda che muscolosa Comunque Eh ma c'è Dalle braccia Devastanti eh Come ROM Fa un pochettino Più di Carola Perché lei affonda Sembra Valerio Naldi Al femminile Te lo posso dire È una cosa incredibile Mamma mia Mamma mia C'è margine Sì Secondo me Chiama 157 e mezzo Secondo me Li fa pure Mamma mia I miei ragazzi Sono dei chili C'è per chi Mastica un po' Lo sa Quanti sono Eh 122 e mezzo È una chiamata giusta Però deve impegnarsi Per chiuderli Deve impegnarsi Giustamente Dici Alzo C'è alzare di 2 e mezzo Se li fai o non li fai Ti cambia poco Benzumi Eh no Un panca Considerando che secondo me In stacco Questa tirerà tanto Sì per forza Anche perché non ha le braccia corte Eh esatto Però vedi loro fanno le chiamate Proprio Quello che mi aspettavo Quello che mi aspettavo Fanno le chiamate perfette E tu quando impari? Considera che sono atleti Che si allenano da 10 anni Quindi si sapranno gestire Carola 150 Per me può farli Li può fare Però devi tirar fuori Veramente tutto Non so Magari prima ha avuto Qualche problemino Di tradittoria Così è Magari si è scomposta Legge Ma non penso proprio Carola Se le fai fare 30 colpi di panca Sono tutti uguali Eh lo so Però magari lì Non so Oh ho l'ansia io ragazzi Ve lo giuro È una replica Ma ho l'ansia per lei Assolutamente Anche perché ovviamente Si fa il tifo per Carola Ma cavolo Eh te l'ho detto Allora prima c'è stato qualcosa Cioè questi sparati proprio Prima c'è stato qualcosa Te l'ho detto Madonna l'ha lanciati L'ha proprio lanciati veramente Cioè è incredibile Ah è salito di poco lei Vedi Forse il world record potrebbe essere Eh sì Sì Se quello di Carola era world record prima Poi l'ha battuto lei Sarà questo world record infatti Ecco sì World record attempts Col mio inglese Macaroni Ah secondo me li può fare Sì anche secondo me Eh vedi secondo me 157 e mezzo Ci stavano pure Non lo so però Mazzabelli Si parte con lo stacco da terra Inizia Carola con 200 Due e mezzo L'entrata comunque più bassa Cioè comunque si tratta di total Vicini ai 600 È follia Mamma mia Molto facile Molto facile Mi fa sempre strano Quando vedo una ragazza Staccare regola Non so perché Sì è vero Pure a me non so Cosa senza senso Ovviamente 225 Di l'altro Quindi 20 kg in più di carro L'altro quanto entra Non è una panchista allora Non ti perco dici Com'è possibile Vabbè Infatti era bassa e scuota Quindi per star dietro a loro Deve essere forte sia in panca Che stacco Forza forte Stacco Lei è la campionessa in carica Priscilla Babboa Pende Facile Anche questo Facile Che comunque 225 Con questa facilità Direi che È un buon numero 235 10 kg in più Di sola entrata Meno male almeno qui Faccio più di loro Perché veramente Stavo sentendo veramente Una pippa Cavolo Ma che cosce No ma sta ragazza È un caterfiller Fatemelo dire Ecco Primo sumo Unico sumo Tra le tre Presa uncinata Ragazzi io Secondo me fa malissimo Io non riesco Madonna Ma con quei quadricipiti Madonna Con quei quadricipiti Il ginocchio Distendi con qualsiasi chilo Ha fatto la faccia Tipo E pensavate Ok Karola Sale i 10 kg Li fa facili 12 e mezzo Sì Ma con questi atleti La sfida è sulla terza Le prime due Perché loro giustamente Fanno le chiamate bene Ragazzi voi dovete Andare in gara E fare le chiamate bene Non lasciare chili Per ora tutte quante 7 valide su 7 Ecco Grande Karola Vedi Prima facile Seconda comunque Facile Ma più lenta E la seconda Ti dice i chili Della terza Questo è 235 Per la francese Su questi chili Difficilmente si arriva A voler fare dei PR In seconda Karola rispetto a lei Adesso stava sopra Di quanti chili Che in panca Gli aveva dato Mi sembra tipo 30 chili No 32 e mezzo In squat però Quanti ne aveva persi 5 Quindi stava sopra Di 27 e mezzo Se fa questa Rimane comunque sopra Karola Sì Leggermente Cioè di una decina di chili No di 7 e mezzo 7 e mezzo Di 7 e mezzo O di 5 Non mi ricordo Vabbè comunque Siamo lì dai È una bella gara Dovrei contare Il totale Dell'altra Però penso che Karola Sia sopra anche All'altra Eh belli Non so se ci sono Altri 10 chili Magari 10 chili No Consideriamo sempre Che è un regular Quindi Ah lei 2 e 42 Pensavo di più Posso dirlo Secondo me Voglio giocare in difesa Magari farei La sorpresa La terza Voglio giocare un po' In difesa Perché Però comunque Con la panca Non è che Si è agevolata Più di tanto Anche se è molto forte Perché comunque Karola è stata dietro Anche perché squat era tanto superiore Karola Sì Fatto 20 chili in più 22 e mezzo In panca Lei gli ha dato Magari gioca Gioca di strategia Dice sto basso nella seconda Così gli altri chiamano un po' meno E io Vediamo Vediamo Perché poi è la terza di stacco Che decide la gara ragazzi Bello Madonna che bello È world record comunque Ok Quindi magari pure per questo Chiamato 2 e 42 Sì Probabilmente Madonna che gambe Ragazzi C'ha le gambe più grosse delle mie Che palle È incredibile Mamma che bello 10 chili lì ha Minchia Ma secondo me sì 10 chili lì ha Secondo me ci sono proprio 10 chili in più Karola 2 e 25 Quindi salto di 12 e mezzo Sì ci può stare dai Secondo me è una bella chiamata Tanti Ecco 2 e 25 Chiuderebbe a 2 e 25 Più 2 e 20 Più 150 Più 5 e 95 Una bomba follia Dai Karola Dai Karola Fai la magia Sì li può fare Li può fare Mamma guarda la concentrazione in volto Porco due Dai Karola Stiamo parlando comunque Della competizione Un tantino importante Un tantino mediatica Dai Karola Dai Karola Che belle ste cose Però veramente queste gare Sono quelle che ti fanno dire Che sport Vai dai 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 No porco due Ci sta dai Erano troppi Purtroppo Cavolo Un po' di chili sono stati lasciati Secondo me Però ci sta Ragazzi all'ultima di stacco Se ve la giocate O bisogna anche provare Guarda un attimo Lei chiama Due trentasette e mezzo Quindi chiamata chirurgica Per superare Karola A questo punto Eh probabilmente Sì per aggiudicarsi Primo posto Adesso Non abbiamo bene idea Di come siano messi a total Per cui si è chiamato così Nonostante avesse un pelino Di margine Secondo me anche in più Sulla seconda Può essere che Praticamente con questa La vince Allora Karola ha fatto In stacco Due dodici e mezzo Però Lei cavolo Lei ha dato tanti chili Di stacco Allora Karola ha fatto Due dodici e mezzo Di stacco Quindi su venticinque chili In panca Karola gli ha dato Trentadue e mezzo Quindi Karola sta sopra Di dodici e mezzo Però in squat lei Era sopra Di cinque chili Di cinque chili A me sembra Che Karola sia sopra Non credo Allora avrebbe caricato Due trentasette e mezzo Avrebbe impurato Qualcosa di più forse Perché comunque In seconda Non è che era Le p10 Oh ma magari sto sbagliando io Boh vediamo Vediamo Guarda li ricordo male Li fa Eh sì che li fa Oh però Chiamata giusta Due e mezzo in più Non c'erano Chiamata giusta Cavolo E pensavo avesse anche di più Due e mezzo in più Non c'erano Brava Due e quarantotto e mezzo Ragata Fitco Che ha fatto Questa sta facendo Una gara di world record Gli ha praticamente Per conto Quattro chiamate su nove Ha fatto world record Sì incredibile Due e quarantotto e mezzo Più centocinquantadue Eh lei minchia Vicinissima a 600 Con questa chiusa Penso che se la fa Ha vinto Sono quasi sicuro Vincere col world record Mamma mia Che roba Quanti soldi ti ha portato a casa oggi Mamma mia Agata Sitco Agata Sitco Ha fatto un gruzzoletto oggi Mica male Ogni volta che entra lei È world record Però madonna che bello stacco Mamma mia Proprio bello da vedere A me vi dico sinceramente A livello estetico Nonostante io faccia regular Sumo è bellissimo Perfisco il sumo La pulizia Di movimento Perfisco il sumo Vediamo Poi c'è sumo e sumo chiaramente Parere che non mi interessava Probabilmente Madonna che belli Hai vinto 600 di total 600 Ti puoi vedere la classifica Non ce la vanno a vedere Ce la vediamo su internet Cavolo ragazzi Che bella cosa Queste sono gare Veramente che ti fanno dire Quanto è bello questo sport Una cosa che spesso Non si capisce È che questo sport È un lavoro Molto più di squadra Di quello che si pensa Si vede l'atleta Lì in pedana Ma ci sono preparazioni Di mesi mesi Un team dietro Tra coach Nutrizionisti Fisioterapia Proprio la squadra Dell'atleta È uno sport Molto molto bello Categoria Meno 69 Total 600 Per Agatha Sitko 585 Per la francese Che non so pronunciarla Ciao 582 e mezzo Per Carlo Lagarde Cavolo Cavolo Quindi Eh sì Era per stagli sopra La chiamata Chirurgica proprio Se Carlo avesse fatto La terza di stacco Avrebbe fatto 12 e mezzo in più Sarebbe stata comunque Sotto Agatha Sitko Secondo Seconda Non era abbattibile Secondo me No questa Agatha Veramente forte Per fare 600 di total Bisognava fare tanto Tanto Beh ragazzi Comunque Stra 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 Tra complimenti a Carlo Lagarde Cavolo Cavolo Atleta incredibile Terza al mondo Un bel total La roba fuori di testa Ovviamente Ma non serve Non dobbiamo Non serviamo noi a dirlo Servono presentazioni E niente ragazzi Complimenti a Carlo Peccato che non ha vinto Però Su questi livelli È veramente Tosta Ovviamente Noi ci vediamo Al prossimo video Ciao ragazzi Grazie a tutti Grazie a tutti.